Questo è uno dei simboli, probabilmente tra i più dolorosi, perché quando colpisce i ragazzi naturalmente il dolore è ancora più intenso, però l'intera città dell'Aquila, tutto il cratere sismico, decine e decine di comuni furono devastati e le ferite ancora si vedono a occhio nudo, nonostante una ricostruzione che sta finalmente decollando, si comincia a rivedere una città restituita alla vita, palazzi che tornano a splendere di una bellezza che in alcuni casi da secoli non esprimevano più, quindi questo ci aiuta a sperare, a guardare al futuro con ottimismo, nonostante anche questo anno durissimo di pandemia che ha aggravato una situazione socio-economica già difficile da affrontare, però siamo sempre stati capaci di risollevarci, lo spirito di questa città e di questo territorio è indomito e indomabile e quindi sono sicuro che sapremo andare avanti e che il futuro ci riserverà grandi prospettive e soddisfazioni.